Ciao a tutti amici di The Room Review, eccomi qua di ritorno con un nuovo unboxing ed oggi andiamo a scoprire la Steelbook di The House of the Dragon la serie evento prequel di Games of Thrones, quindi del Trono di Spade che arriva finalmente anche in versione fisica dopo la messa in onda su Sky e Now TV arriva finalmente anche in versione Blu-ray 4K e DVD tra le mie mani ovviamente come avete già visto e letto da titolo ho la Steelbook versione 4K attenzione perché dico Steelbook versione 4K perché all'interno ci sono solo i dischi 4K quindi se acquistate questa edizione distribuita da Warner Bros. troverete solo ed esclusivamente i dischi 4K all'interno la Steelbook è disponibile anche in versione da collezione con un cofanetto in slipcase con all'interno anche le card con le immagini, le foto dei protagonisti principali di questa prima e bellissima stagione che dirvi che all'interno ci sono comunque gli extra, quindi gli extra sono stati mantenuti anche nei dischi 4K ma come già vi ho detto non ci sono i dischi Blu-ray all'interno di questa edizione purtroppo non è stato fatto un digipack quindi non è possibile continuare la serie Blu-ray con i digi come il Trono di Spade ma possiamo iniziare la serie con le Steelbook in questo caso all'interno troviamo i 4 dischi con tutti gli episodi e come vi dicevo anche gli extra, circa un'ora di extra ed è presente anche un'immagine sulla parte interna del tastile c'è un artwork interno che non è altro che la rappresentazione dei protagonisti principali c'è anche il re che in realtà si vede solo nei primi 10 minuti della prima stagione ma comunque abbiamo una bella foto all'interno che dirvi, è una serie che si vede molto molto bene ovviamente audio italiano 5.1 Dolby Digital se volete l'audio in HD non potete fare altro che guardarlo in lingua originale perché c'è un bel Dolby Atmos come vi ho detto si vede una bomba parliamo dei dischi 4K e sarà disponibile in tutti i negozi dal 14 di febbraio ora non so se io riuscirò a caricare questo video prima ma comunque dal 14 di febbraio li trovate in tutti gli store quindi sia fisici che online per questo video come sempre è tutto io vi lascio il link in descrizione ad Amazon qui in basso nelle descrizioni se vi è piaciuto questo video come al solito mettete un bel like se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attiate la campanella per restare sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi unboxing e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao a tutti ciao a tutti